Ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Louise e il video di oggi è un video un po' speciale, perché è un video announcement un video dove vi annuncio una cosa, ovvero che parto, vado via per sei mesi in Erasmus e dove vado, vi starete chiedendo, drumroll please, vado a Puro Test, l'Ungheria e sono molto carica, non sono veramente tanto carica, non vedo l'ora e sono proprio entusiasta per fare questa esperienza, andare da sola all'estero fare l'Erasmus, fare la vita dell'Erasmus e niente, quindi in questo video volevo solo annunciarvi questa cosa semplicemente per dirvi che per i prossimi sei mesi vedrete degli sfondi un po' diversi e anche tipologie di video un po' diverso, nel senso che vorrei fare video un po' più magari vlog, follow me around, a day in my life, queste cose qui perché voglio documentare per bene questa mia esperienza all'estero e poi appunto ci tenevo, visto che erano l'occasione, ci tenevo a ampliare un po' gli orizzonti delle tipologie di video che faccio di solito ovviamente però continuerò a fare cose, parli journal, organization, quelle cose lì però se avete richieste specifiche o domande specifiche fatemi nei commenti e vi rispondo e niente, quindi questo era il video, molto breve, molto semplice però ci tenevo a annunciare questa cosa mi raccomando seguitemi su Instagram dove immagino farò molte storie per farvi vedere le cose e cercherò di caricare più foto perché come sapete non sono tanto costante con le foto su Instagram e anche su YouTube spero di caricare molto più spesso anche perché magari avrò più tempo libero o forse di meno, quello è ancora da vedere però sperando di avere abbastanza tempo libero spero appunto di riuscire a caricare almeno una volta a settimana almeno, poi vediamo e basta, quindi vi ricordo che i link dei miei social sono linkati nell'info box come sempre mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale così restate sempre aggiornate e noi ci vediamo alla prossima e il prossimo video direi che sarà proprio ambientato a Budapest quindi ci vediamo a Budapest ciao ciao